Continuano i servizi di contrasto alla criminalità organizzata disposti al gruppo carabinieri di Locri ed effettuati dalla compagnia di Locri Bianco e Roccela Ionica. Negli ultimi giorni i carabinieri della Locride e quelli dello squadrone riportato a Cacciatori, supportati al nucleo Cinofri di Vibbo, hanno passato a setaccio centri abitati e campagne con perquisizioni e rastrellamenti nelle zone impervie pre-aspromontane, controlando casolari e anfratti naturali. A Platì i carabinieri della compagnia di Locri hanno rinvenuto e sequestrato un bunker largo circa 3 metri e lungo altrettanto, il cui accesso era abilmente occultato da un grosso blocco di sciamento, scorrevole su dei binari in ferro grazie ad un meccanismo azionabile manualmente. Lì vicino inoltre è stato rinvenuto anche un tubo in plastica contenente un sacchetto al cui interno vi erano oltre 50.000 euro in banconote da diverso taglio, anche alcune false, assieme a 50 munizioni calibro 9 e un motociclo sprovvisto di targa e oggetto di furto a Milano nel dicembre 2018, nonché di circa 10 grammi di canapa indiana. Al sessantenne sono stati contestati detenzione abusiva di armi e munizioni, riciclaggio, ricettazione, falsificazione di monete, spendita e introduzione allo stato di monete falsificate, produzione, coltivazione e detenzione lecite di sostanze stupefacenti o psicotrope e abusivismo edilizio.